Buongiorno, sono il notario di Paola, Andrea, ho lo studio a Nerviano e per il mio studio ho scelto Notario Next. La prima volta che ho approcciato questo nuovo programma è stato qualche anno fa, quando ho vinto il concorso e i tecnici di tutte le software house mi hanno contattato per mostrarmi quello che erano i loro programmi. La mia curiosità, perché sono un appassionato di informatica e tecnologie, è stata quella di vedere tutti i software e quindi durante il periodo delle nomine, delle graduatorie, mi sono deciso e ho guardato tutti i programmi, ho guardato tutti quelli della concorrenza, più Suite Notario che era il programma con cui avevo lavorato dieci anni e poi su Notario Next che ne è l'evoluzione. Per me però la scelta è stata abbastanza semplice, nel senso che dopo aver visto tutti i programmi, compresi quelli di OA, la scelta è stata su Notario Next, perché era il programma che meglio rispecchiava quelle che erano le esigenze del mio futuro studio e soprattutto quella che era l'idea del mio studio. Io sono un notario giovane e la cosa su cui volevo puntare per distinguermi anche dalla concorrenza era l'innovazione tecnologica e la rapidità di risposta nelle richieste del cliente. Quindi mi serviva un software veloce, semplice, intuitivo e soprattutto volevo uno studio paperless, cioè uno studio senza troppi documenti in giro dove ci fosse la possibilità di avere quello che normalmente si ha negli studi, quindi le cartelline cartacee e digitalizzato. Il programma Notario Next secondo me era il programma e dopo due anni posso anche dire sono sicuro che è il programma più adatto a quella che è la mia visione dello studio. Il programma ha secondo me due grossi vantaggi, il primo è la semplicità di utilizzo, quindi la facilità di utilizzo, i tempi di direzione del programma che sono migliorati tantissimo nel corso di questi due anni e il secondo grosso vantaggio è la personalizzazione, nel senso che è un programma che rispetto anche a quella che ne è l'evoluzione, cioè Suite Notario, consente al notaio che magari ha un pochino di capacità informatiche, non serve essere dei scienziati però un minimo di competenze informatiche, di personalizzare il programma. Quindi nei mesi che si sono sosseguiti dal primo contatto col programma fino a poi l'entrata in esercizio mi sono divertito a preparare il formulario, preparare le bozze dei preventivi, preparare lo schema di cartelline virtuali, quindi mi sono dedicato a tutta l'organizzazione dell'ufficio a livello informatico e devo dire che pur essendo un appassionato non ho grosse competenze ma il risultato direi che è stato molto positivo. Ho rilevato un ufficio in centro a Monza, un ufficio con personale che erano 20 anni che utilizzava lo stesso software e quando sono entrato in questo studio e ho portato Notario Next sono trovati tutti benissimo e il passaggio è stato molto molto semplice. Anche la digitalizzazione col programma è andato benissimo e quindi da questo punto di vista devo dire che è un programma che consente non solo a chi ha alle spalle una formazione ad hoc ma anche all'utente medio di prendere rapidamente confidenza e entrare a pieno regime velocemente. Notario Next è stato un programma evoluto in questi due anni quindi anche WA Sistemi ha richiesto ed è stata una cosa che sia io e me e collaboratori abbiamo molto apprezzato la collaborazione da parte di vari studi quindi è un programma che non è stato evoluto solo con le idee degli sviluppatori ma con le idee del notaio e del personale e quindi questo è un punto secondo me molto importante e che è stato apprezzato sia da me che dai miei collaboratori ed è un programma che ha avuto una grossissima crescita. Oggi è un programma efficientissimo, un programma veloce, un programma snello, è un programma soprattutto che consente al notaio di tenere d'occhio quello che è l'attività di studio in qualsiasi momento. Mi è capitato durante il periodo della pandemia di avere uno dei collaboratori che purtroppo ha contratto il covid e questo non ha minimamente inficiato su quella che era la performance dell'ufficio perché in emergenza il collaboratore che comunque stava bene ha potuto collegarsi da remoto dall'ufficio, tutto ciò che era presente in ufficio era caricato sul programma e quindi anche lo stesso lavoro non ne ha risentito e soprattutto io avendo due uffici ho la esigenza in qualsiasi momento di poter tenere traccia di quello che è l'attività di un ufficio piuttosto che dell'altro e questo programma mi ha consentito, il programma mi ha consentito di farlo in qualsiasi momento quindi è una cosa che dal mio punto di vista per chi ha due studi o comunque decide di lavorare in mobilità è fondamentale. L'altra cosa molto vantaggiosa è che si tratta di un programma web quindi non esiste una vera e propria applicazione che richiede un'installazione da remoto ma il programma può essere fatto girare su un qualsiasi dispositivo che abbia accesso a internet quindi questa è l'altra comodità dove magari mi trovavo spesso a non avere il mio computer portatile a disposizione mi bastava un pc con una connessione per poter avere il mio ufficio a disposizione. L'altra cosa che per me è stata fondamentale non è tanto il programma ma è l'assistenza che ho ricevuto perché sembra una cosa molto semplice quella di aprire uno studio nel 2020 non è una software house che propone un prodotto finito al notaio ma è una software house che ascolta il notaio per cercare di sviluppare quello che è il programma. Questo dal mio punto di vista è una cosa fondamentale è una cosa che ha fatto crescere in maniera positiva lo studio la cosa diciamo che più sorprende secondo me i collaboratori piuttosto che i colleghi è la facilità di utilizzo perché rispetto a programmi della concorrenza o lo stesso suite notaro la cosa più immediata è proprio la capacità per una qualsiasi persona di gestire il programma già con una buona percentuale di usabilità. I corsi di formazione sono durati pochi giorni però devo dire che hanno sortito grosso effetto perché sono stati dei corsi non imposti da OA ma dei corsi organizzati con OA mi spiego meglio. Quando si è trattato di organizzare i corsi con OA ci siamo sentiti tutti i giorni per cercare di organizzare dei corsi ad hoc per quello che era l'idea mia di studio. Altra cosa per me fondamentale avendo digitalizzato l'intero ufficio è quello di gestire tutto quello che gli aspetti legati alla pratica, lo scambio di email, lo scambio dei preventivi e avere un programma che si integra perfettamente con quelli che sono gli altri applicativi di Microsoft è fondamentale. Quindi avere la possibilità di utilizzare Outlook e poter salvare tutta quella che è la conversazione delle mail scambiate col cliente e tenerne traccia in futuro è una cosa fondamentale. Quindi un plauso a OA per aver integrato questa funzionalità che consente al notaio semplicemente con un click di salvare nella pratica quelle che sono le mail e quelli che sono stati gli scambi con il cliente. Altra cosa secondo me fondamentale è appunto la gestione dei backup perché rispetto ai programmi progressi, quelli che ho utilizzato, quelli di altri competitor, il salvataggio dei file avviene automaticamente. Quindi senza la necessità ogni volta che si esce dalla videoscrittura a dover salvare qui il programma salva automaticamente e tiene traccia di tutte quelle che sono state le modifiche. Quindi mi è capitato più volte magari di aver impostato un atto in un determinato modo arrivato alla fine mi sono accordo che per esempio il cliente non aveva diritto e è stato cambiato l'atto. In sede di stipula poi si è scoperto di dover tornare indietro eccetera è bastato recuperare la versione scritta in precedenza per poter appunto sistemare l'atto in pochi secondi. Quindi questa è un'altra cosa fondamentale, tenere traccia di chi ha messo mano all'atto come è stato modificato l'atto. Un pacchetto che secondo me è molto molto interessante e che ha sorpreso anche in positivo è quello di argilla che è un formulario integrato e che torna molto utile secondo me non tanto per l'impostazione degli atti perché è chiaro che il notaio ha una sua bozza e quindi utilizza normalmente le bozze che vengono create ma per quanto riguarda magari un confronto con tematiche un po' particolari quindi mi è capitato magari di avere la tassazione di alcuni atti un po' particolari di affrontare degli atti con clausole particolari e il fatto di poter trovare rapidamente all'interno del programma quelle che sono magari le bozze sviluppate da un collega o poter appunto leggere quelli che magari sono i riferimenti normativi al lato mi ha consentito di risparmiare tanto tempo. Io in ufficio come tutti i colleghi ho formulari cartacei, aggiornati eccetera però la possibilità di averlo integrato nel gestionale quindi senza dovermi alzare spostarmi dalla sedia, andare a cercare, vedere se la normativa è aggiornata eccetera è un grosso vantaggio per me e per i miei collaboratori che predispongono un atto. C'è un altro modulo che secondo me è molto interessante, molto utile al giorno d'oggi che è quello dell'antiriciclaggio quindi tutta la parte legata alla gestione dei controlli sui falliti e soggetti che magari hanno subito protesti o quant'altro. Questo è integrato anche nel programma e consente al notaio rapidamente nel momento in cui si inserisce una nuova anagrafica di valutare se il soggetto presenta delle criticità oppure no. Qui utilizza la parola purtroppo il notaio viene molto responsabilizzato per quanto riguarda l'antiriciclaggio e non sempre è facile reperire le informazioni sui clienti. Il fatto di avere una banca dati integrata per quanto riguarda questi aspetti è fondamentale ed è una cosa molto molto utile sia per il notaio che per i collaboratori. Rispetto ad altri programmi c'è la possibilità di importare qualsiasi tipo di dato dalla visura catastale ai dati dei clienti alla visura camerale e alla visura ipotecaria. Questo consente ovviamente non al notaio di non controllare quelli che sono i dati immessi ma consente al notaio di fare una verifica in meno perché non è necessario andare a digitalizzare dei numeri o dei dati ma è sufficiente fare un controllo quindi questo permette un risparmio di tempo incredibile e soprattutto riduce drasticamente quello che è il margine di errore. Una cosa molto importante per quanto riguarda il programma poi è la possibilità di personalizzare le varie utenze nel senso che tutti gli utenti ovviamente fanno capo all'utenza madre che è quella del notaio ma il notaio può gestire quelle che sono le varie utenze in maniera indipendente quindi può personalizzare le varie utenze in base a quello che è l'attività che svolge il collaboratore quindi per la persona che svolge contabilità c'è la possibilità di consentire un accesso a tutto quello che è la contabilità dello studio piuttosto che magari alla persona che si occupa del repertorio oscurare la parte di contabilità anche la pagina iniziale l'home page quella che si chiama dashboard è personalizzabile quindi ogni utente può personalizzare gli elementi essenziali da andare a vedere in serie di apertura del programma e quindi questa è un'altra cosa su cui il notaio può incidere c'è anche un'altra cosa molto interessante che è il workflow cioè la possibilità di valutare man mano che la pratica viene sviluppata quelli che sono gli avanzamenti quelli che sono magari eventuali problematiche quindi c'è la possibilità di creare un elenco documenti che viene richiesto al cliente e man mano che i documenti arrivano segnalare quelli che sono già pervenuti o quelli che mancano sono inesatti quindi la possibilità in più per il notaio di magari aprendo la pratica per fare il controllo prestipola di vedere cosa è stato portato cosa è stato portato oppure vedere quello che è lo stato avanzamento degli adempimenti queste sono delle cose secondo me fondamentali perché consentono al notaio di modificare e adattare lo studio a quelle che sono poi le esigenze concrete della sua idea di pensiero della sua idea di studio